Elezioni europee, regionali ed amministrative. Nel 2024 sarà così Election Day in data sabato 8 e domenica 9 giugno. Manca ancora l'ufficialità, ma l'intenzione del governo appare chiara. La fumata bianca arriverà durante il prossimo Consiglio dei Ministri. L'Unione Europea ha da tempo reso note le date delle elezioni europee 2024. I 27 paesi dovranno recarsi ai seggi tra il 6 e il 9 giugno, con l'Italia che avrebbe deciso di votare sabato 8 e domenica 9 giugno. Per tutti gli Stati membri poi lo spoglio inizierà in contemporanea le 23 di domenica 9 giugno. Questo vorrà dire che lo scrutinio dei voti per le regionali e per le amministrative avverrà in un secondo momento, ovvero potrebbe essere il primo pomeriggio di lunedì 10 giugno. Altra importante decisione adottata dal governo riguarda i sindaci dei comuni con più di 5.000 abitanti fino ai 15.000 potranno infatti candidarsi per un terzo mandato, dove ora vige il limite di due mandati di fila. Molti i sindaci anche in provincia di Arezzo che potrebbero così considerare la terza candidatura. Nell'Aretino saranno 26 i comuni chiamati al voto nel 2024.